Buonasera a tutti, breve resoconto della Commissione Bilancio. In ordine del giorno un solo punto importante, il bilancio consuntivo 2016 dell'azienda speciale Regina Elena. La proposta di bilancio è stata, vengo subito a sodo, approvata all'unanimità, anche perché nel precedente Consiglio Comunale era già stata, diciamo così, predisposta la somma necessaria per coprire la perdita. E proprio delle dimensioni della perdita, dell'importanza della perdita, si è parlato alla presenza dell'assessore a bilancio Martinelli e del direttore dell'azienda speciale Biselli, che ha illustrato quelle che sono al momento le criticità che stanno vivendo. Da un punto di vista economico, soprattutto da quando da istituzione comunale è diventata azienda speciale, c'è stato un aggravio di costi che rende difficile far quadrare i conti mantenendo elevata, com'è la qualità del servizio. Quindi rispetto a questa situazione sarà assolutamente necessario individuare delle soluzioni, perché di fatto la situazione è pesante. Per quanto riguarda la parte finanziaria, il direttore ha sottolineato la situazione di tensione che si origina dal fatto che un monte crediti molto importante vantato nei confronti dell'ASL non viene onorato con regolarità. L'ASL è perennemente in ritardo con i pagamenti e questo genera delle tensioni finanziarie nell'amministrazione dell'azienda. In questo senso l'assessore Martinelli ha garantito un'attività pronta da parte dell'amministrazione, da parte del sindaco nei confronti dell'ASL per far sì che questi crediti, soprattutto quelli scaduti da più tempo, vengano onorati il prima possibile. Si è dibattuto ovviamente su quelle che sono le necessità di intervento e è stato sottolineato da parte di qualche membro di opposizione la necessità che vengano quanto prima individuate da parte dell'amministrazione e da parte della maggioranza delle soluzioni rispetto a questa situazione. Se si tratta di un'attestazione di fiducia la accogliamo volentieri e addirittura ringraziamo. Se si tratta invece di un richiamo all'ordine nell'attribuzione di responsabilità mi piace sottolineare come questa maggioranza si sia insediata da non più di due mesi e come proprio nella relazione introduttiva al bilancio di cui si è discusso oggi, solo pochi mesi fa, sotto nella precedente consigliatura, veniva scritto questo che vi leggo. Le criticità che presumibilmente avrebbero portato ad un risultato negativo erano già state evidenziate nella relazione al bilancio di previsione 2016, ma il rinvio continuo della discussione nella Commissione bilancio e della presentazione dello stesso per l'approvazione in Consiglio Comunale bilancio approvato addirittura nell'aprile 2017 hanno comportato difficoltà di programmazione prima e di gestione poi e impedito di porre in essere razionalizzazione e adeguamento. Mi sembra che ogni parola in più sia superflua. Ciao a tutti, alla prossima!